Alice non lo sa, nel pieno i lavori, le riprese sono partite il 3 ottobre scorso, siamo al decimo giorno, una storia interamente al femminile. Sì, sono sette protagoniste, sono sette attrici italiane tra le più bravi che ci sono in circolazione e la storia praticamente racconta le 24 ore prima del matrimonio di loro, quindi ci sono amiche varie che si radunano per l'addio al nubilato e succedono un po' di cose e ormai il film sul matrimonio è diventato un genere, ne sono uscite moltissime negli ultimi anni, questo è un po' particolare nel senso perché questi personaggi sono personaggi di altissima classe ma di una cattiveria, sono sette mostri praticamente, almeno sei mostri più una perché poi c'è anche una parrucchiera rumena che viene invitata a questa festa prima del matrimonio e con la sua ingenuità all'inizio le mette un po' in difficoltà, in realtà poi le scatenano una cattiveria raramente vista ultimamente nel cinema, vi assicuro. Due parole sul regista, Diego Modio, chi è? Dunque, io sono essenzialmente uno sceneggiatore, questo non è in realtà il primissimo film perché ho fatto anche delle altre cose, l'ultimo documentario l'anno scorso, ho scritto moltissimo, questo è il primo film che faccio ed è un film che faccio perché conosco, è un film su cui ho lavorato per almeno dieci anni, l'ho riscritto in questi dieci anni e ho un altro lavoro, faccio il medico, diciamo che le carriere sono sempre andate in parallelo. Adesso questo è un film che posso girare anch'io, che voglio girare anch'io perché è una sorta di rispetto per il testo e perché, ripeto, ci sono dieci anni di lavoro che così vengono fuori al cento per cento. Da dove nasce questo lavoro, questo film? Forse da un periodo di osservazione del mondo femminile oppure no? Sicuramente, però il pretesto è una... io avevo... ho anche scritto per il teatro negli anni 90 e avevo scritto una serie di commedies e una di queste commedie si chiamava Brividi e raccontava l'addio al nubilato e erano solo donne, perché l'altra particolarità di questo film è che sono tutte donne anche le comparse, cioè non si vede un uomo in tutto il film. E dall'idea di questa commedia, dai personaggi di questa commedia, è venuto fuori l'idea di fare un film, tutti personaggi ispirati a figure reali, però come si fa sempre, però opportunamente modificate, diciamo così, e quindi da lì è venuto fuori un film che non corrisponde alla commedia assolutamente, se non per i personaggi. Logicamente c'è anche un'osservazione del mondo femminile, ma anche di quello maschile, perché si parla anche di uomini durante il film, l'argomento non è soltanto le donne, anzi la figura peggiore, devo dire, ce la fanno gli uomini, anche se non appaiono. Alice, evidentemente, è la donna che si sposa tra le sette. Sì, sì, è anche il rimando voluto alla canzone di De Gregori, che si chiama Alice, è una delle più famose, ma anche una delle più belle, è anche il rimando ad Alice nel Paese delle Meraviglie, e se vogliamo anche il rimando a uno dei più bei film di Woody Allen, che è Alice, Alice, che a fine, il tema è simile, sono esponenti dell'arta borghesia, che in realtà sono, come dire, si rendono conto a un certo punto di quello che hanno attorno, e di che tutto quello che appare non corrisponde poi alla realtà. A chi è rivolto? Per chi è stato pensato? Per gli uomini o per le donne, oppure per entrambi? È pensato per chi vuole ridere senza porsi poi il problema di perché ha riso, nel senso che si ride molto, ma per cose per cui alla fine della risata uno dice no, veramente su queste cose non si dovrebbe ridere. Cioè, è sicuramente una commedia, fa molto ridere, però c'è un'amarezza dietro che uno non si aspetta. E quindi non esiste, cioè il target, chiamiamolo così, anche se il termine è orribile, è abbastanza vasto. Chiunque può andare a divertirsi, dai 15 facciamo agli 80 anni. Veniamo alla scelta di Taranto, questa location, perché? Taranto che in questo momento vive ed è, continua ad essere al centro di un dibattito molto forte. Uno dei motivi è questo, per presentarla in un altro modo, un altro motivo, perché noi giriamo a Taranto tutto il film, un altro motivo è perché volevamo andare in un posto poco visto dal punto di vista cinematografico e con una particolarità che ha Taranto, che mescola un'architettura e degli stili che si richiamano al passato con costruzioni moderne, ma come dire, accostate spesso in modo improbabile, però rende il tutto abbastanza anomalo nel panorama italiano. Un giudizio obiettivo, perché è un giudizio che viene da una figura che qui non è nata, Taranto non è nata. Taranto potrebbe pensare ad un futuro anche in questo senso, cioè Taranto cinematografica, potremmo pensare a questa dimensione? Bisogna prima pensare a un'altra cosa, però bisogna pensare a Taranto turistica, secondo me. Io arrivo da Torino, Torino è stata completamente modificata dal punto di vista architettonico, no perché non si può, però dal punto di vista turistico, diciamo. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere le Olimpiadi invernali e da lì è partita una rivalutazione e una revisione totale della città che ha portato Torino adesso ad essere una delle mete più ambite dal punto di vista turistico in Italia. Bisogna prima aumentare il potere di attrazione della città, sfruttando le peculiarità che già ci sono, perché non bisogna inventarsi nulla, venderla meglio, curarla meglio e poi ci arriva al cinema tranquillamente, non c'è problema. Qualche anticipazione sulle scene che vedremo all'interno di questo film? Possiamo pensare ad un'immagine positiva di Taranto, quella che, mi riferisco a quella che verrà poi proiettata attraverso le immagini? Sì, volete sapere, l'ilva non si vede, ci sono... no, no, l'immagine abbiamo scelto delle location, spesso cambiandole all'ultimo minuto, perché noi dovevamo fare una scena in una fontana, qui che era una scena... non mi convinceva tanto l'ambientazione, pur essendo una bella fontana maestosa. e sono passato in una piazza, ho visto una specie di gazebo metallico che c'è qua dietro, abbiamo trasformato quella piazza con delle luminarie che abbiamo aggiunto ed è diventata una delle scene più belle del film. Quindi ci sono... sicuramente viene fuori una Taranto dal punto di vista anche visivo, abbastanza anomala e spettacolare. Quando sarà nelle sale? Alice non lo sa. Allora, dovrebbe uscire all'inizio di marzo, perché noi finiamo adesso le riprese fino a ottobre, poi ci sarà novembre e dicembre per fare i vari lavori, i tempi del cinema sono quelli, usciremo anche i primi di marzo perché la festa della donna è l'otto marzo, quindi è la data esatta, diciamo.